Ultimo annuncio, quindi un gioco Un gioco Game Freak Grazie a tutti Oh mio Dio Grazie a tutti Oh mio Dio Finisce così Cioè quest'anno non esce nulla? Non ci credo Io felicissimo non esca nulla quest'anno Devo essere sincero Cioè non... Va bene, d'altra parte se vogliamo più qualità questo devono fare Deve passare un po' di tempo Però certamente il remake era una cosa che non era di competenza di Game Freak Ma come avete visto con Diamante Lucente per la Splendente è stato un altro studio Quindi Ilka che si è occupata dei remake per cui era plausibile comunque l'uscita di qualche remake Invece... invece no Invece no Quando ho visto Game Freak ho subito pensato a Leggende perché non poteva essere chiaramente il gioco per la decima generazione Quindi... sì... leggende ma leggende Pokémon... Zeta A? Non me lo sei aspettato No Ragazzi A prescindere da tutti sono contento lo ripeto Contento per un nuovo leggende Contento che quest'anno non esca nulla come credo Insomma non uscirà nulla La vedo improbabile che annunciino poi un gioco Pokémon magari st'estate per novembre Mi sembrerebbe un po' troppo strano Tanto i giochi Pokémon vengono sempre presentati ad inizio anno Se poi ci hanno mostrato quello che esce l'anno prossimo Perché dovrebbero saltare quello del 2024 Non avrebbe per nulla senso Al momento ragazzi ci possiamo salutare non abbiamo nuove informazioni E... basta Aspettiamo e speriamo Adios Buon pomeriggio Grazie per esserci stati Ansia finita